le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di sabato 12 settembre ariete luna che vi rende nervosi non cercate lo scontro non ne vale la pena sarebbe molto meglio trascorrere questa giornata con i familiari toro godetevi questa luna positiva per l'amore i brevi viaggi mettete da parte le preoccupazioni che ancora vi affliggono sul lavoro ci penserete lunedì gemelli la luna in cancro può essere una spinta in più a consolidare certi rapporti sentimentali nati negli ultimi mesi ma può anche rendervi incauti nel maneggiare denaro cancro la luna nel vostro segno rende incandescente l'atmosfera nella coppia sarete molto passionali il vostro fascino non passerà mai inosservato leone sarete ancora un po' frastornati in questa giornata indecifrabile in cui non riuscirete mai a capire bene quale sia la mossa giusta da fare non fatevi prendere dal panico vergine la luna vi permette di affrontare la giornata con lo spirito giusto siete pronti a ricevere l'aiuto delle persone intorno a voi ma anche a fornirlo a chi ne avrà bisogno bilancia giornata difficile specie per i rapporti di coppia la luna e marte sono negativi può scapparci qualche litigio per gelosia anche il lavoro è pieno di insidie scorpione la luna è molto sensuale però ricordate che venere continua ad essere severa non accetta voli di fantasia tanti pianeti vogliono da voi decisioni chiare sagittario c'è un po di confusione alcune situazioni si sono complicate all'improvviso e non riuscite a trovare più il bandolo della matassa agite con pazienza capricorno non è una giornata buona per parlare dei problemi per trovare le giuste soluzioni molto meglio agire in maniera risoluta solo attraverso l'azione potete sperare di vincere acquario siete sempre un po annoiati non riuscite ad apprezzare fino in fondo le cose belle che vi capitano in questo periodo pieno di novità anche in amore oggi sarete inconcludenti pesci giornata davvero positiva la luna vi invita a frequentare persone nuove posti nuovi ogni cambiamento fatto in questo periodo è destinato a dare frutti positivi ecco l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus